Sì, sì, ti sento, ti sento Sei appena entrato nel video e stai per dire quello che già sappiamo tutti Perché anche tu, penso tu, hai fatto sicuramente un full team Bene, però non voglio parlare a tutti quelli che stanno guardando questo video Ma a quelli che stanno per rompere i coglioni Perché come al solito quando carico un video io non va mai bene Allora vi dico subito con questa tazza di latte e caffè dentro la tazza Che praticamente ho fatto questo full team e ne vado fiero di averlo fatto Perché è il mio secondo full team che finalmente sono riuscito a registrare Ovviamente, ovviamente ci sarà qualcuno che avrà da ridire Perché è full team però c'è quello che è senza mani E sappiamo tutti benissimo che tu che stai commentando sei un fenomeno Sei un pro player, giochi nelle leghe mondiali, ok? Però io che dalla mia umile passione per Rainbow Six Ho voluto caricare e condividere con i ragazzi che mi seguono e che ci seguono La mia esperienza di un full team fatto con Thermite Che è l'arma più merdosa del gioco Però siccome molti di voi avranno visto sicuramente il mio video che ho fatto un tempo fa Sul 12 metodi per sfondare le barricate anche senza l'utilizzo di Toucher Perché io gioco praticamente sempre in team con gente, con i miei favolosissimi amici Che non utilizzano mai il Toucher E quindi mi ritrovo sempre da solo come un frucetto che utilizza il Thermite Perché nessuno lo vuole utilizzare Quindi praticamente è diventato il mio main Quindi uso sempre sto cazzo di Thermite e sto cazzo di Mute Dunque vi farò vedere in questo video una piccola clip In cui mi esalto, ok? Manco fossero i mondiali 2006 Va bene, ok? Va bene, va bene Ve lo concedo Però concedetemi anche quel pollice in su Che ovviamente ci sta, ragazzi Cioè, premiatemi Cioè, fatemi sentire a casa, per favore Fatemi sentire a casa Black, sei un nabbo Però ti concediamo questo like Perché sei stato bravo Nel tuo piccolo, nel tuo piccolo mondo Sei stato bravo Ah, e vi dirò di più Sono entrato finalmente ad essere anch'io un Platino 3 Non lo sono Però diciamo che come tutti Non è il singolo che fa la squadra Ma è la squadra che fa il... Vabbè Via col video Spero vi piaccia Ciao No, c'è prova a commentare Così non c'è prova Che te vengo a casa a piatto E stacco un'orecchia, eh Ecco Eh, avviamo sto video Dai, via col video Sì, scusate Mi ero ascoltato Eh, oh Ci posso fare Ci si scordano La cagata era uscita Che è mappa di Madonna Che l'ho visto La mappa di Madonna Che è proprio Madonna Di Mappa Così, così Quelle canzoncine pre-partita Che sai che stai per sfondagli anni aperti proprio Gli stai aprendo No, io stasera sono gasato Se voi ce la portano a me No, ce l'ho, ce l'ho Ben fatto Il contenitore di Bioris Beh, le 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 Fanno sui belli Le c'è di Jäger Le c'è di Jäger Sanno a fare Ah, non di qualcosa Ragazzi Ela In ufficio Visti Ela Hanno spaccato la bottola Ela ha spaccato la bottola L'ufficio Visti Quindi lascerei proprio per Eh, non sta andando in ufficio Visti Amministrativo Ufficio Visti No, no Ufficio Visti c'è sta cosa C'è sta Pulse Che ha fatto le bottole E sopra Ragazzi l'ho preso in faccia Ragazzi l'ho preso in faccia Questo L'ho preso in faccia Ve lo giuro L'ha preso in faccia Stabasso steppe Stabasso steppe Stabasso steppe Perché c'è la sopra finestra Non vuole che c'è E raga Sopra c'è la Comunque ultimo piano Arion Verrei io Però Non c'è Non do una Claymore Uè C'è Putin Le scale Infatti Aspetta Arriva Arriva Preso Ok Lascia me Levati da lì Ma che cazzo sto facendo No Non devo spaccare la bottola Devo 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 fa la cam Attento Apri dietro C'è Apri dietro Controlla dietro Sì sì Un po' col drone Oh yeah Scala 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 Lì Davanti a te Sì sì Adesso è parapassa Amore Spesso Lux Attento Ok È libero Raga Libero È là Cosa è fatto Trattere È recluta Dentro Sto arrivando Allora Qui Guarda Bucchino Sto Sto Fatto Bucchino Colas È corridoio Corridoio Orin alla tua Destra In fondo Alla C'è Corridoio Alla Destra Davanti a Davanti a Testa No È lì Sto Per arrivarsi Davanti Sì Il dire La Renza Ricarico Ricarico Questa Faccio Un'altra Bottola Di vita Cazzo È qua Nelle graffe Non esce Non esce Di niente Quanti È rimasti Due Guarda Forse C'è la Trappola Di posto Sotto L'arbo Attivo Il drone Un attimo Raga Aspettate Adesso L'axa Sinistra Sinistra Attività Neutralizzate La Minaccia Sono lì Sì Mancano Dieci Secondi Dietro 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 Sì Sì Full team Full team Full team Full team Full team Mamma mia Salviamo Eh no E ve l'avevo detto io E ve l'avevo detto io Manco fosse I mondiali 2006 Ok Ok Concedetemi Sto cazzo De like Non vi ho chiesto La luna Ciao E ve l'avevo detto io Ciao 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 Ciao